ciao ragazzi siamo su tini troopers di nuovo oggi faremo la missione 5 salve prigionieri facciamo in difficoltà semplice perché siamo ancora un po non proprio esperti volevo insieme a voi fare i potenziamenti al a questa cosa ai al fucile siamo questo qua che fanno più da che fa più danni che i soldati fanno piani questo qui che poi non più volte perché sono molto smirati questi soldati a meno che non sei quello che non c'è nemico davanti sono molto smirati 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 allora questi sono i prigionieri mi sa che sono sempre tipo i nostri compagni saltiamo la l'introduzione sono tipo marines credo andiamo andiamo avanti acqua qua arrivano gente arrivano ok distrutti cioè saccagnati stiurati ok va la 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 stiamo indietro lontano va 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 ok ragazzi abbiamo una bomb che abbiamo preso da uno di questi soldati aspetta che guardo la mappa perché c'è una stella non so dove sto andando ah tornando totalmente dall'altra parte adesso ragazzi magari taglio questo no vabbè andiamo insieme così magari se c'è qualche nemico distruggiamo che intanto guardo la mappa per vedere se sto andando nella direzione giusta ok andiamo la non c'erano questi prima prendiamo tutto quello che si può raccogliere no ho sbagliato no ok andiamo altra target che sono la fine punti comando oh gente qua ok andiamo più avanti ancora più avanti andiamo in là c'è una torre c'è una torre mi sa oh noi siamo ancora dentro è buono questo è buono è buono no 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 via 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 fermi oh fermi giù ok andiamo andiamo avanti oh c'è la ciaffiamma no 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 qua schiattiamo siamo un kit di cura sono da solo eh sono rimasto da solo sono rimasto non vedo ok ho detto di andare là no forse è meglio tipo lì no vabbè sì ciao fermi tutti come si mette in pausa sul gioco voglio un soldato come quanto costa non lo vedo tanto magari mi prendo un po' di bombs fanno sempre bene le bombs mia 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 aspetta aspetta che gli tiro una bombs vai giù no se non li ho presi neanche a piangere le giro ciao amici cioè no tanto amici no ne posso tirare un'altra no 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 io vado avanti e ciao a tutti eh dove dove ah eccolo oh c'è un cicchino e vabbè oddio clavera e ciao ugo ciao ugo e e e io svado via io io svezzo fium 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 ho qualcuno che mi da un kit di cura no è proprio non vi piacciono a voi ciao buongiorno io passo passo tiro una bomba mi muovo mi muovo se l'ho fatta no sono morti e dai c'è la kit di cura anche l'argo allora abbiamo due bombs mi sa no una bombs se non c'è la mia modalità facile abbiamo due bombs no io non mi sbaglio eh scusatemi soffio il naso eh eccomi sono soffiato il naso excuse me eh in questo periodo si è tutti ammalati oh c'è già gente che spara aspetta che vada avanti levatevi devo passare io via 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 potete vedere ragazzi queste missioni si fanno sempre più difficili perché sono i soldati sono sempre più sono sempre di più hanno sempre robe più forti cioè prima ragazzi abbiamo trovato uno con lanciafiamme quindi fatemo voi poi c'è anche il cecchino adesso che è lì che appena appena sali ti aspetta uh c'è una bomba c'è una bomba lui c'è una bomba eh vabbè ho tre granate ho due granate prendetelo ok bravi 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 no oddio non ti metto davanti civile che poi dopo ti prendo e ti lamenti vabbè l'hanno ucciso ne ha sparato loro a me non dà la preoccupazione a me non l'ho ucciso io eh guardate ma prendete voglio la mia targhetta e medaglia dov'è l'eccola guardatemi qua che biero la medaglia medagli ah andiamo più avanti andiamo più avanti abbiamo due bombs abbiamo due bombs andiamo più avanti e ma c'è la gente che scende dal cielo sono le a no non sono aquile sono quelle le cicogne che portano i bambini forse un po' più arrabbiate perché sono super veloce via aspettate che ho un bellissimo chizzo di cura ok grazie ok io non vado mani in alto polizia al cancello fermo non ti permette di fare cose con noi via cacchette si abbiamo vinto il kit di cura il kit di cura quante piastrine tutte le piastrine bene adesso cosa facciamo è vero che dobbiamo andare al punto è arrivato è successo è sposo qualcosa vabbè buongiorno buongiorno ma cosa volete mandati via mandati via non vi mettete davanti soldatini amici abbiamo finito questa mission mamma mia dai ce la fate possiamo andare abbiamo fatto via mamma mia a di tantissima Ah c'è un cosigno schiantato. Ah forse era tipo la missione in cui c'era quello sopra la macchina e le... Ok 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 ok. Intanto io mi faccio un po' di monete sopravvivendo perché tanto finché gli sparo a questi qua... Io spero... ah ma io posso andare avanti. Io spero che dopo un po' innanzitutto finiscano di arrivare. E quello probabilmente è sicuro. Quello probabilmente è sicuro però... Oh ce la fai ad andare a... E vabbè sì no. Non so da dove ci arriva bene. Va bene noi pensiamo a sopravvivere perché noi siamo forti vero? Mamma mia non so come ci si arriva quella modaglia. C'è pure quello che lancia le bombs, le bombs, le bombs... Vai avanti! Ok è esploso lui da solo. Io sto aspettando eh tanto che... Tanto io mi prendo targhette e robe varie. Ah non ho preso le targhette vabbè. Delle bombs! Un kit bene bene il kit bene. Che è che sospira nel... Ah ecco da come si ci arriva qua. Bom 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 baby bom 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 baby bom bom. Come vi permettete di dare le bombs? È resistentissimo comunque quel tizio eh. siamo nel fuoco nemico la bevanda veloce la bevanda veloce veloce come ho fatto a morire d'anno quanti non mancavano ma quando tu resta qui che stanno durando un 20 mila minuti a queste missioni vabbè ragazzi per questo episodio è tutto e ci vediamo nel prossimo ciao